Onorevole Sassoli, 345 voti. Fumata bianca la seconda votazione per l'eurodeputato PD David Sassoli che diventa il nuovo presidente del Parlamento europeo. Tutti insieme, con l'idea che l'Europa sia una casa di tutti, che le politiche che si sviluppano si sviluppino con democrazia, però anche con rispetto. Io quando andrò in un paese europeo, all'inno e alla bandiera, sarò in piedi. David Sassoli nasce a Firenze nel 1956 e nel capoluogo toscano cresce e si laurea in scienze politiche e comincia il suo lavoro da giornalista. Dalle piccole testate locali al giorno alla RAI, dove diventa vice direttore del Tg1. La carriera politica comincia invece nel 2009 con il PD e nel 2012 concorre alle primarie per il sindaco di Roma, arrivando subito dopo Marino. Nel 2014 poi si candida alle elezioni europee e diventa subito vice presidente dell'Unione europea. Il Parlamento europeo, a stragrande maggioranza, ha detto due cose. Che chi arriva in Italia, in Grecia o in Spagna, arriva in Europa. Questo provvedimento che è molto complicato, che potrebbe consentire all'Europa di avere strumenti per affrontare una gestione dell'immigrazione, è ancora fermo al Consiglio. Solo il PD però per Sassoli. Forza Italia si astiene e la Lega va contro. Il Movimento 5 Stelle invece ha lasciato la libertà di scelta. Nella giornata di oggi poi al Parlamento europeo è andata in scena una parentesi calcistica tra i neodeputati Silvio Berlusconi, Susanna Ceccardi e Gian Antonio D'Arrè, anche lui leghista. L'autografo della maglietta del Milan a battesimo dell'avventura a Bruxelles.